ritorniamo alla frase da cui eravamo partiti all'inizio l'idia mi grazias egit ob donum quod a me acceperat nella frase compaiono due verbi al passato il primo è egit che abbiamo tradotto con miri graziò grazias egit e il secondo è acceperat che corrisponde a aveva ricevuto ed ed è dunque il più che perfetto che in italiano traduciamo col trapassato prossimo come in italiano così in latino il trapassato prossimo è un tempo relativo che si usa sempre in relazione a un'azione passata che cosa vuol dire in parole povere ragioniamo sulla frase che abbiamo appena tradotto vuol dire che l'azione di ricevere aveva ricevuto precede sempre nel passato l'azione di ringraziare che viene dopo quindi l'idia mi ringraziò perché da me aveva ricevuto un dono l'azione di ricevere un dono precede nel passato l'azione compiuta da l'idia del ringraziamento quindi in poche parole il più che perfetto latino è un tempo dell'indicativo che esprime un'azione passata rispetto a un'altra anch'essa passata e cioè un tempo relativo che si usa sempre in relazione in collegamento a un'altra fu a un altro tempo un'altra azione nel passato consideriamo quest'ultimo esempio iam ad termas veneram et te expectavam ero già arrivato alle terme iam ad termas veneram e ti aspettavo te expectava veneram è la voce del più che perfetto attivo del verbo venio è la prima persona singolare di formativa del verbo venio che cosa esprime esprime un'azione passata rispetto a un'altra che si svolge nel passato l'azione di venire alle terme precede nel passato quella di aspettare dunque come in italiano anche il più che perfetto latino che corrisponde al nostro trapassato prossimo esprime un'azione passata che si è verificata prima di un'altra collocata nel passato quindi concludendo il più che perfetto latino è un tempo relativo cioè che si usa sempre in relazione ad altre forme verbali al passato in genere perfetto e imperfetto grazie a tutti